Benvenuti su Digital Store Network, oggi vediamo come si attiva il servizio Mio Borderot direttamente dal portale ovviamente prima dovete essere sempre iscritti a questo prezioso strumento messo a disposizione dalla SIAE prima di vedere esattamente come si attiva questo servizio che vi consentirà di compilare online i vostri Borderot i programmi musicali delle vostre serate come al solito sempre la sigla finissimo vediamo come attivare il servizio Mio Borderot ovviamente sempre nel portale autori ed editori cliccate su Mio Borderot c'è la richiesta di adesione, bisogna spuntare ho preso visione, concedo autorizzazione, concedo autorizzazione e poi procedi bene a questo punto come vedete c'è scritto benvenuto nel portale qui potrai gestire i tuoi programmi eccetera eccetera quando siete qui scrivete i miei programmi ovviamente qui troverete l'elenco dei programmi musicali da accettare potranno essere più o meno, potranno essere un solo programma o addirittura più programmi quali sono i programmi? sono i famosi Borderot online che dovrete accettare, compilare e li troverete in questa sezione ma in questa sezione potete anche fare una cosa molto semplice, potete andare a creare delle playlist come si organizzano le playlist lo abbiamo spiegato in un altro video tutorial che troverete alla fine di questo video nella sezione schede finali quindi alla fine del video ci sarà rimando ad altri due video uno dei quali sarà proprio come compilare un border online e come creare una playlist ma soprattutto il motivo per cui è consigliabile per coloro che fanno molte serate creare una playlist con questo è tutto, vi lascio al prossimo video tutorial, grazie